Sono dovuto andare a Borgotaro, verso nella tarda serata. C'era già la nebbia sulla strada di Lozzola, la strada provinciale. La stessa strada provinciale che tutti i giorni è percorsa dal pullman dei nostri ragazzi che raggiungono le scuole a Borgotaro. È una strada dissestata, dove mancano le righe orizzontali e con la nebbia è notevolmente pericolosa. Ho fatto presente più volte all'amministrazione provinciale, all'assessore Serpagli, l'ho fatto presente al ministro del Rio, l'ho fatto presente all'assessore regionale Donini. Non si ottiene nulla come non si ottiene nulla sulla strada di Calestano, dove i cittadini di Casa Selvatica e Fugazzola hanno raccolto anche le firme e hanno dichiarato la loro disponibilità ad acquistare addirittura la vernice per la provincia. Sono già dal 2014 che non vengono fatte le righe orizzontali, almeno sulla strada di Lozzola e sulla strada di Calestano.